Recuperata una delle due scatole nere dell'aereo Boeing 737-500 della Strivi Jaya Air precipitato in mare sabato scorso. L'incidente è avvenuto pochi minuti dopo il decollo dall'aeroporto di Jakarta, la capitale dell'Indonesia. Dopo giorni di ricerche sono stati sommozzatori della marina indonesiana a ritrovare la scatola nera cercando nei fondali del mar di Java, nell'oceano Pacifico. Ora il registratore di volo potrà fornire agli inquirenti indicazioni utili sulle ragioni dell'incidente nel quale sono morte 62 persone, 50 passeggeri tra cui 10 bambini e 12 membri dell'equipaggio. Presto ritroveremo anche l'altra scatola nera dichiarato il capo della marina indonesiana Iudo Margono. Il dispositivo aggiunto era sepolto nel fango del fondale marino sotto tonnellate di relitti dell'aereo. Secondo gli esperti il Boeing 737 avrebbe perso oltre 3.000 metri di altitudine in meno di un minuto.